Toscana da arancione a zona gialla, poi rossa e quindi di nuovo arancione, in un'altalena di colori ma anche di restrizioni ed allargamenti. Dopo giorni di attesa, infatti, ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nuove limitazioni natalizie per contrastare la diffusione del Covid-19. Da domenica 20 dicembre, dunque, scatterà il ritorno in zona gialla per la Toscana, una condizione la meno restrittiva di quelle previste, che andrà avanti anche il 21, il 22 e il 23 dicembre, ma in questi giorni con il divieto di uscire dalla propria regione. Ci saranno poi 10 giorni di zona rossa in tutta Italia, si tratta dei festivi e prefestivi, con negozi, bar e ristoranti e la maggior parte degli esercizi chiusi al pubblico, consentito invece l'asporto sino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti. Restano aperti i supermarket, farmacie, alimentari, parrucchieri, barbieri, tabacchi, edicole e lavanderie, aperte anche le chiese per le funzioni religiose. In fascia arancione poi andranno tutti gli altri giorni, ossia i feriali. In questi giorni così ci si potrà spostare nel proprio comune di residenza. Per i comuni più piccoli sono consentiti gli spostamenti nel raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà invece spostare verso il capoluogo di provincia, chiusi, bar e ristoranti, negozi aperti invece sino alle 21. Il coprifuoco poi rimane fissato dalle 22 alle 5, a capodanno invece sino alle 7. Tra le principali novità del decreto natale, una è indubbiamente quella rappresentata dalla possibilità di andare nei giorni festivi a casa di parenti ed amici, però con una limitazione si può essere soltanto in due, anche se si può essere accompagnati da minori di 14 anni. Tutti gli spostamenti infine nei giorni rossi ed arancioni dovranno essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Rimangono infatti in vigore le multe per chi non rispetta i divieti.